Strattonato e aggredito sotto casa, il sindaco di Civitavecchia ha denunciato il dipendente di una partecipata del comune messa in liquidazione al primo cittadino 5 Stelle, la solidarietà del mondo politico e sindacale. Grazie, grazie a Dei. Preso per il bavero e spinto contro il muro, Civitavecchia si sveglia con l'aggressione al sindaco dei 5 Stelle Antonio Cozzolino, strattonato sotto casa da un dipendente di una società partecipata del comune. Il primo cittadino finisce al pronto soccorso, denuncia tutto alla polizia e si sfoga su Facebook. Parla di clima di intimidazione, ricorda consigli comunali in assetto da guerriglia, come a settembre quando Civitavecchia e infrastrutture fu sciolta e messa in liquidazione. In consiglio uno dei dipendenti per un malore si accasciò su una sedia e finì in ospedale. Antonio Cozzolino ora è a casa con moglie e figli, sono in corso le indagini. Chi l'ha malmenato sarebbe figlio di un ex consigliere comunale del PD. Motivo dell'aggressione? Stipendi arretrati che l'amministrazione non avrebbe pagato. Aveva ricevuto a dicembre un arretrato di tre mensilità, quindi in qualche modo si era tentato di tamponare una situazione di sofferenza. Ricevere un'aggressione fisica è una cosa che nessuno di noi si aspettava e che non è altro che da condannare. Grande porto, alta disoccupazione, la fotografia di Civitavecchia dove un anno e mezzo fa Cozzolino è diventato sindaco dei 5 Stelle. È ancora sotto shock ma scrive io non mollo.